Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Quest'oggi ragazzi stiamo giocando con un certo Raxor Yt Che ovviamente, udite udite, è il mio vecchio profilo raga Quello con la quale eravamo arrivati a 20.000 coppe Poi siamo stati bannati Dovevamo arrivare al grado 35 con 8 bit Ma siamo stati bannati in un momento proprio Perché eravamo lì lì Quindi ringraziamo ancora la Supercell per questo Comunque a parte questo raga Come già avevo anticipato nel video del ban Che se non l'avete visto ovviamente ve lo lascio nelle schede in alto a destra Comunque questo account non sarà più mio Non sarà più mio perché siamo stati bannati per account condiviso Ed essendo che questo account inizialmente apparteneva al mitico Lorenzo Brawl Stars Che tra l'altro se volete passate dal suo Instagram Vabbè comunque fatto sta che continuare a condividerlo Vorrebbe dire rischiare ancora il ban Magari rischiare il ban permanente Per cui come vi avevo spiegato nel video del ban appunto Sto ripetendo 27 volte ban ma ok Io rimarrò su questo profilo da 12.000 quasi 13.000 coppe e basta Che comunque siamo saliti molto eh perché ho iniziato che stava 8.000 quindi ok Lui in questo momento si trova a 16.033 quindi GG per lui Raga detto questo andiamo ovviamente a farci l'ultima partita con Raxor Yt E chi posso usare La mappa è piena della fame e boh mettiamo 8 bit anche se non è il top del top ma Andiamo raga Eccoci qua in partita Oh mio dio Raxor Yt e Raxor Vabbè Le robe incredibili proprio Allora qua sarebbe davvero grandioso prendere subito 4 power up e dire che 4 power up sono Addirittura c'è anche il quinto Questo è un signor start raga eh Questo è assolutamente un signor start Dunque sarebbe stato molto carino Ah ha fatto anche una kill grande Sarebbe stato molto carino magari fare questo video in chiamata assieme no Però purtroppo ha un po' di casino lui in casa e quindi Oh occhio 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 E quindi non riesce ma va bene lo stesso Raga se stiamo messi di un bene Qual paura prima prende Beh prendo io Sarebbe stato meglio secondo me se l'avesse preso lui però Occhiarellino Occhiarelluccio Occhiare Ma Aiuto no Panino time no Panino time no Panino time no Vieni bro Magari sta a bottazzo T'ho distrutto Scontro finale Merida ha ucciso tutti lui Vabbè allora È un animale il mitico Lorenzo Guardate li abbiamo devastati Abbiamo pure un socchetto Oia Vabbè stanno Oh occhio però che qua Vabbè Distrutto E anche questo Vabbè ha ucciso tutti lui Vabbè Va bene Chiaramente il video si chiama Addio Raxuryt Per un motivo ben speciale Tanto 300 200 token Ottimo Dicevo il video si chiama Raxuryt Per un motivo apposta Infatti adesso lui Andrà a cambiare nome Giustamente E quindi raga Io non ho idea di come vorrà chiamarsi Il nostro Lorenzone Attendiamo il nuovo nome Ok messo pronto Però aspetta Non è che magari devo andare Eccolo Lorenzo Con la faccina sorridente Oddio che brutta Aspetta però voglio vedere Guardiamo il nome Ma qua è piena Qua mi segna ancora Rax Eccolo Lorenzo Con la faccina Oh mio dio E addio così Raxuryt È ufficialmente morto E vabbè Che brutta storia Dai ci facciamo l'ultima partitozza E Mi scendo una lacrimuccia No vabbè sto scherzando Però Ecco già brutta partenza Ora Ora si che mi scendo una lacrimuccia Davvero Solamente una cassa Prima ce n'erano 27 Diciamo che è una differenza Cioè Però becca di sta bottazza L'ho distrutto Becca di questa Dai ci muori Ormai l'abbiamo capito Che ci No Guarda per quanto non lo prendo Ma sei serio No in realtà lo prendo ora Dai S'hai capito frate Ci devi morire Dai su Eh dai E ridestiniamo Mi dispiace Ma era il destino Succhettino miracoloso Ah beh Qua stiamo A te Furbacchione Furbacchione mio Volevi eh Bella carlettino Bella carlettino Comunque ancora Ok un team è andato Ottimo Qua sotto stanno accadendo Uh Robi incredibili stanno accadendo No però aspetta Ah che male Stanno accadendo Robi incredibilissime Morici Ah Muorici Muorici C'è morto Ottimo Qua ti do questo Bello Vai bro Vai bro Lo devasti L'hai devastato Dov'è l'altro Ah spawn adesso Mi sembra giusto Sì ma eh Ora non è per Automira Dove vai Automira Dove va Ma l'Automira Quando c'è la bolla Che c'è con Dall'nemico È come se non esistesse Vabbè Vabbè Meno male Anzi Mi ha rischiato Eh Roba proprio Incredibilissima Ma fortunatamente È andata come andata Comunque raga Io per questo video Direi che possa anche essere tutto Abbiamo dato il nostro addio Al mio vecchio profilo Mi raccomando raga Vi invito a lasciare un bel like E iscrivervi con la campanellina Se non l'avete fatto Noi come sempre Ci becamo alla prossima Con un nuovo video E ovviamente Passate anche dall'instagram Del mitico Lorenzo Bella raga Grazie a tutti